allora questo video è dimostrativo per far vedere che la sound bar in vendita della sony è funzionante adesso io sto zitto voi sentite il volume e poi accendo la sound bar all'alziamo un po il volume adesso accendo la sound bar allora voi potete di solito fa si fa così quando si accende la sound bar si abbassa tutto il volume si abbassa tutto il volume del tv eccolo qua lo portiamo a zero e poi accendiamo la sound bar assolutamente quando parlo a me piace fare così non posso parlare in casa se no adesso sto abbassando la sound bar poi va bene ci sono tutti i tipi di c'è il menu livello ve lo faccio vedere qui c'è opt livello poi quasi si può spegnere muting ah beh poi ci sono tutte le funzionalità questo è il suo telecomando eccolo qua poi c'è la garanzia vecchia naturalmente perché è usato lo vendo senza garanzia però come potete vedere funziona tutto poi ci stanno tante funzionalità che io vabbè neanche praticamente l'ho usata pochissimo quindi vi potete divertire io adesso sto facendo delle cose accendo spengo però ecco l'importante che funziona poi vi faccio la foto del posteriore in modo che potete vedere gli attacchi ve lo faccio risentire non conosco le sole guardie è chiesto qua che sono il campanale c'è un venditore famoso che è allorato